Buongiorno, prego, prego, accomodatevi, venite, raccontateci un pochino come richiese Gesù Polala, la telecamera, buongiorno amici. Ecco, in questa domenica nel Vangelo Gesù chiede alle folle che cosa siete andati a vedere e Gesù lo dice, il Battista, colui che ha avuto il privilegio di annunciare proprio la venuta di Cristo. E allora, cari amici, chiediamoci, stiamo con la nostra vita, con i nostri atteggiamenti annunciando la gioiosa venuta di Gesù. E la terza domenica di avvento, la cosiddetta domenica della gioia, rallegratevi, il Signore è vicino. Bene, in che cosa? In chi sto cercando la mia vera gioia? Una gioia che rimane per sempre, una gioia che lascia il segno nel mio cuore, nella vita e non è passeggera. Davvero in Gesù o in tante altre cose? E poi questa è la terza domenica di avvento, cosiddetta, non mi piace perché l'ho già detto prima, terza domenica.